no no un mestiere non si può fare più ma è mai possibile la stammatina 80 euro ah troppo poco troppo poco guaglio questo secondo me fa prostituto vado solamente perché è soldi per tutti quanti non c'è sangue vabbè aranciato che c'è a fare signorina quanto le devo dare per la mia compagnia 40 euro 40 euro andiamo guaglio su 10 euro però